signori siamo pronti qui nella partita di rocket league abbiamo da questa parte la mia macchina faccio fare un giro di promozione l'altra parte quella di e questa è la gialla e rossa dobbiamo fare gol nella porta avversata nella vita reale con le macchine vabbè non con la macchina sono pronti grazie e partiamo il mattino di pomeriggio la lei ma scusate grazie 321 il primo che arriva a 1 direi a 3 ci batterà la batteria via buona stavano usando la staggante di pura razza e si sposta la palla attenzione vota il pallone ha voto il tap 1 a 0 per elias autogol 321 via 2 a 0 madonna ragazzi sta vincendo 2 a 0 via 3 ultimo gol ti posso dire da lei vai via rischio dai portalo cazzo faccio cagare ci chiamano attaccare attenzione quasi è difficile sto gioco ragazzi se ti provi a andare oh 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 e passa davanti all'area la palla signor e signore andiamo a chiudere oh oh vado di testa e la butto dentro per favore amore oh 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 che è successo ah l'ho preso il controllo ora vado sul 2 a 1 ragazzi vado sul 2 a 1 no aspetta no me l'ha tolta ho una posizione buona oh no 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 vicino a casa mia no vicino a casa mia 0 0 e il vincitore è Elias allora adesso tocca a Cristina contro Elias 4.108 dai sfondalo bella ok signori e signori ci siamo nella prossima competizione aspettate dice Frank vi ho bene oh ragazzi mi raccomando quando comprate questi tipi di macchinine ricordatevi che siano dirò te Cristina non me la ricordo quella cosa dell'MHZ frequenza diversa frequenza diversa questa qua è la frequenza questa qua è 40MHZ aspetta ma fermo che lo devo inquadrare come potete vedere questo è 40 e non ti muove ancora la mano 40M 40 è la mia 27 40 e quella di Lady 27 è 27 e se si muove è al contrario ok questo è 27 perché se entrambi hanno il 27 con un telecomando le usate due lo diciamo perché noi abbiamo fatto questo errore se entrambi hanno un numero uguale 3 2 1 via Rocket League attenzione Elias palo subito vediamo se la butta dentro attenzione la palla è lì sulla linea no lei azione azione molto no dove vai invasione di campo abbiamo un'invasione di campo brava Lady intelligenza di Lady si toglie la palla oddio attenta l'autogol attenta l'autogol la situazione del pallone di Lady è bruttissima se la toglie attenzione esce mettila come vuoi in partenza la puoi mettere come vuoi eh vabbè easy godo attenzione pensa con 2 o 3 macchinine che sballa no si agganciano contatto fisico attenzione no Elias è ancora col fuori campo oh Elias prova il pallonetto non va oh palo di Elias ragazzi un palo allucinante c'è un attaccante di razza Elias attenzione attenzione bello esterno destro l'ha fatto bravissimo 1 a 0 oh dobbiamo creare il torneo di queste cose si si me lo faccio attenzione via manca eh aspetta 3 siamo 1 a 0 per Elias 3 2 1 via 0 2 2 1 jack palo wall entra anche in porta direttamente il passo ma chi è la bomba qua scusate l'avrei chiamato il VAR però mi sembra che è il goal 2 a 0 Elias ragazzi ma questo va battuto no 3 2 1 via mi manca una rete Elias attenzione gol che vincitore che umilia tutti a 3 a 0 tutti quanti eccolo qua il campione ragazzi non chiedete cosa è in testa no vabbè fate quello per stare in casa è stata la macchinina vincente eccolo qui ragazzi io direi di andare a prendere l'altra bestia voglio fare il cambio auto per vedere se riesco a vincere vabbè la prende regolata ok permette il calico la mia ok ragazzi questa è la macchina che ha perso due volte eh sì allora come mai perdi due volte anche te settaggi qui c'è a sistemare ora vado scuola bestia la macchina di che colore oh 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 la mia scarica la mia scarica la mia scarica carica eh la sto caricando vediamo un po' se vince anche con la macchina nuova per adesso di essere il campione in discorso eh vediamone la prossima dopo quello che mi chiede il calico la macchina nera tieni qui? oh 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 la lascia andare lascia andare se per neanche i video così continui la stai con la gialla che poi qui abbiamo il caricapatterie come vedete che dobbiamo dire che c'è quale ha caricato il mio nonno non lo sapete questo è un campo che è un campo si questo l'ha fatto il nonno di Elias bellissimo però guarda ci possiamo diretti con questa roba e guardate che bella adesso vedetela contro la black white guardate la black white andiamo a vedere la black white ragazzi nessuno ha mai battuto la black white a rocket leap anche perchè è la sua prima partita quindi per forza nessuno l'ha mai battuto vediamo la black scorpion white uno scorpione per dirvi attenzione la numero 94 sono pronto eh ma la mia è un po' scarica eh non mi interessa eh non ti interessa tieni chris arrivo allora black white black white ragazzi mi raccomando i telecomandi due frequenze diverse se no è un casino ragazzi no l'abbiamo fatto la pista prima avete visto comunque facciamo vedere un attimo bene la mia macchina la macchina del campione allora bianca e nera cioè bianca e rossa eh sì bianca e rossa gialla e rossa poi il davanti molto bello secondo me sì sì il dietro pure sembra quella di GTA quella gratis inquadrami in me in questo momento non so se siamo pronti ragazzi quasi il primo che arriva il treni anche non si può parlare altrimenti per bici che ci contagia tutti sei pronto l'idea se il campione indiscusso soprattutto quella macchina della campionessa indiscussa però vediamo la mia 94 della snorbs rebellion person girelli dove fare una bellacura e via lo dalle 3 2 1 via oh ah se non accendiamo c'è tutti e due coglioni e anche uno tutti e due via 3 2 1 via oh questa gira molto meglio qui anche perché dobbiamo dire che vi asprima si è saltato sopra alla macchina gialla è andato un bel botto questa è una besta anche più da carico oh dove vai pallone vieni vieni ora oh il palo signore questa va meglio no 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 con il giro d'effetto guardate poi con il giro no passano vai via te la metti nel campo ma che ha portato la macchina bene oh non vale appoggiarsi se la mia stai che non va te la sposta io quando lo si do come lo dice no sezione forse la rete per me che non va mia decine di coltere comune sezione prendo la mira rock league prendo la mira tiro attenzione la pasta parata parata allucinante del portiere no 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 si 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 comunque ragazzi aggiungo una cosa semmo tutor quando gli hanno fatto tagliare i capelli mates per la yes man sei pazzesco veramente 1 a 0 ragazzi dai bella non mollare vedi quando vuoi via ma come ma così voglio farlo io 2 a 0 ragazzi è imbattibile mi sfido a venire qui a provare la sfida quando volete 3 2 1 via si te lo sei dentro si palo via dove vai fossa via faccio io non puoi salire il capo mettila a posto la mia pala no 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 non parlo dai come fai di mettere il piede nel campo e ti sputo in un occhio il piede quando c'è ormai non ho visto il piede no 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 e faccio tutto da solo numero 1 vabbè comunque questa è molto meglio dai ma se ne avessi riprova questa vediamo l'ultima partita no no prima di prima di ripete ho già perso 3 a 0 3 a 0 mi dai la rivincita la voglio di essere così forte dai dai non posso non posso perdere due volte di fila con un bambino che c'è anche i diti tutti storti invece è vero a me non mi sembra le dita assorte cioè via bello di e via e via e poi attaccante avanza attenzione attenzione che non la vedo bene la mia bella bellissima lei ho dato una lasciata al pallone cosa spostarla così chiamano bananino attenzione 1 a 0 di frame così esatta con la giravolta classica di frame sai come chiamano questa pallina il maschile pallino pallino è un film voi non l'avete capito guardatevi il film come si chiama il film no dete via tenacius ah sì detenacius faccita sono 1 a 0 no vabbè quando vai angolo che si spostarla che semmai attacco attacco madonna mettere il campo la mia la palla non la puoi toccare perché tocchi la palla lascia andare dove va però io posso incidere ho detto che alla palla e gli angoli no ce la facciamo spostare ok no 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 non così ce la facciamo ce la facciamo è l'idea si 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 vai vai strottman 2 di strottman sta a vedere si viene avanti in avanti in avanti in avanti dai che ne vede la donna porta vuota che scazzo stato si vai l'esterno porta avanti si il tocchetto e palo che è la palla che che cazzo spieghi la mano va beh ma che la tochi esce effettiva devi capire che esce anche non la toccare se la ritocchi con le mani a rigore avvertito a rigore mi spiace ti puoi stare in porta attenzione ai ricordi ragazzi oh malissimo ricordo più buona oh stop e andiamo così 2 a 0 si va bene questa è la rivincita quindi non è manco intanto sto dicendo perché ho citato la rivincita se non inizia a essere stanco non piace più a muoverci si vabbè c'è anche la macchina sky inizia stanco la forma fisica non c'è 2 a 1 dobbiamo caricarla un po' meglio se le caricate bene ragazzi durano abbastanza attenzione attenzione porta avanti la palla no è molto sky niente ragazzi partita annullata perché non ce la fa più aspetta spiego questa e collego quell'altra sostituzione no 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 il telecomando lascialo stare ognuno ha il suo no no questo è il telecomando della nera sostituzione ragazzi e io la spendo in qualche modo o non rimane così così via se non toccare niente no stavo caricando ma la tua è carica la mia sky non è sky cioè non è carica non vedi che c'è il pallone 2 a 1 per lui 3 a 1 via un attimo cosa sa un colpetto di 3 secondi forza giallo infibito beh e si spezza che si faccia prima io lo sono partita vai e mi faccio e mi faccio vedere dai dai non togli quelle vanacce ragazzi faccio no le faccio ecco la ecco il mio momento il mio momento momento di gloria e dai guarda che parato ma ti ti faccio portiere no ragazzi non è dal suo sky non ce la farò e manco la mia schede però dobbiamo finire la partenza e ti muoio attenzione si finita me vieni 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 ma vabbè è andato è andato questo è il gioco ragazzo ora li mettiamo in carica invece tu ovviamente sono io migliori in casa per adesso degli S4808 e più forti di tutti avremo la rivincita nella prossima partita da Freca Pazzoni è tutto passi e ti do cagnacci passi e ti do